È sempre più probabile che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato, nonostante con luglio sia terminata la serie di 13 record consecutivi e sia terminato anche il fenomeno climatico chiamato il ninho. L'ho annunciato oggi l'osservatorio europeo Copernicus, con una media globale mensile di 16,91 gradi, lo scorso mese è stato sia il secondo luglio più caldo che il secondo mese più caldo mai registrato, classificandosi appena 0,04 gradi sotto il record di luglio 2023, come ha spiegato l'osservatorio nel suo bollettino.